I dubbi erano ormai pochissimi, ma adesso c'è l'ufficialità. È quello di Enrico Letta, il nome scelto dal Partito Democratico di Siena come candidato per le elezioni suppletive di autunno per il collegio uninominale Toscana 12, per scegliere il sostituto dell'ormai ex parlamentare Piercarlo Padoan, tornato al mondo della finanza. Lo ha deciso la direzione provinciale del PD. La proposta di candidatura di Letta è stata votata all'unanimità dal partito sinese. Abbiamo apprezzato le prime iniziative da segretario, il coinvolgimento della base, le parole chiare su tematiche identitarie, le proposte avanzate e le modalità di guida del partito, dicono i vertici del PD locale. Abbiamo inoltre apprezzato quanto ha dichiarato lo stesso Letta sullo specifico tema del collegio, sostenendo che la decisione rispetto alla candidatura deve avvenire dal territorio. Per il segretario Dem erano arrivati fin da subito gli endorsement del PD toscano, Simona Bonafè, segretario della PD regionale, aveva parlato di lui come candidato perfetto per le suppletive. Adesso resta da capire quali saranno le intenzioni del segretario nazionale e deve essere ancora giocata la partita degli alleati di centro-sinistra, perché sia Italia Viva che Europa Verde hanno manifestato i propri dubbi. Ci stiamo confrontando con gli organi nazionali, sicuramente saremo presenti a questa competizione per rappresentare Siena con un senese. Il territorio deve essere rappresentato da qualcuno che proviene da qui. Abbiamo grandi personalità in grado di rappresentarci. Era stato il lapidario commento di Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale.